Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Ringrazio lo sponsor di questo video, cioè Gams Go, il portale di condivisione degli account e dei servizi streaming. Rimanete collegati fino alla fine del video per maggiori informazioni e un codice sconto pensato per voi, parassiti, che seguite la versione di Barley. Oggi parliamo della serie Netflix Cobra Kai, una serie decisamente divisiva. Nel senso, o bene bene o male male. C'è chi la adora, come il sottoscritto, e c'è chi non la sopporta, come un paio di amici che mi perculano per questo mio guilty pleasure. Anche se davvero non libiasimo, perché la serie Cobra Kai è impregnata di cliché e archetipi kitsch ed estremamente cheesy, tipici degli anni 80, che in qualsiasi altro contesto sarebbero insopportabili. Ma che invece, associati a questa storia e a questi personaggi, così legati ai film della serie Karate Kid, appunto degli anni 80, hanno perfettamente senso. Mettiamo la cera e togliamo la cera dopo la sigla. Correva l'anno 1984, avevo 8 anni e abitavo a Milano. Andavo tutti i sabati al cinema dell'oratorio, perché proprio in quel periodo storico il cosiddetto cinema per ragazzi era un genere incredibilmente florido. Sono gli anni di Indiana Jones, Ghostbusters, Igunis, Ritorno al Futuro, il cinema parlava una lingua fiabesca che prometteva fantastiche avventure ad ogni spettacolo. E proprio un sabato del 1984 sono andato al cinema dell'oratorio a vedere un film intitolato Karate Kid. Dovete immaginare che in quel periodo chi faceva karate era uno sfigato. Andava proprio oltre il concetto di nerdismo, era la sublimazione dell'essere vivente sfigato. Ma ovviamente il film Karate Kid cambiò tutto. Dopo aver visto Karate Kid, infatti, tutta la scuola metteva la cera e toglieva la cera e si esibiva nella famosa Mossa della Grue, il calcio volante più famoso della storia del cinema. Anche perché quelli erano anni nei quali cinematograficamente il karate era una roba per tamarre, o le arti marziali in generale. Erano relegate ai film di Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Chuck Norris. Erano action movie un po' di serie B. Non erano film per ragazzi ma li guardavamo lo stesso. Però appunto le arti marziali al cinema era roba da maranza. Karate Kid invece ha presentato al mondo il karate come mezzo per cuccare la più carina della scuola. Chi se ne frega della filosofia orientale, dell'equilibrio tra bene e male. La nozione più importante era impara il karate, vinci un torneo e finalmente limoni. In più il protagonista di Karate Kid, un giovanissimo Ralph Macho, era un ragazzino che si era trasferito da poco in quella città, condizione in cui io nella mia vita reale mi sono ritrovato un sacco di volte. Quindi l'immedesimazione è stata massima. Se vi state chiedendo se dopo aver visto questo film mi sono iscritto in un corso di karate, la risposta è no. Odio tutti gli sport di contatto. Però proprio da quel film il karate nel mondo ha assunto tutto un altro significato. Perché nel film Karate Kid il karate era servito al giovane Daniel Russo a superare le sue paure, sconfiggere il bullo che lo tormentava e finalmente crescere, trovare il suo posto nel mondo. Da quanto tempo non dicevo questa frase. Tra l'86 e l'89 sono usciti altri due film della cosiddetta saga di Karate Kid che però non hanno raggiunto la magia del primo episodio. Mentre nel 94 si è cercato di fare un reboot della serie, semplicemente cambiando sesso al protagonista principale. Quindi via Ralph Maccio dentro una giovanissima Hilary Swank. Ecco da dove ha preso l'idea la Disney. Maledetto Karate Kid! Nel 2010 hanno tentato di riesumare il cadavere del povero Karate Kid con un remake con protagonisti Jackie Chan e il figlio di Will Smith. Roba assolutamente dimenticabile. Anche perché ormai il mondo è terribilmente cambiato. Oggi il concetto di duro allenamento per ottenere un obiettivo, di sforzo e fatica per ottenere un risultato, è terribilmente nebbioso e relativo. Quindi un film con protagonista un ragazzino che si eleva attraverso l'allenamento e la maestria di un'arte marziale non ha assolutamente senso. Sono mica le maestrie di Brawl Stars. Ma nel 2020, prodotta direttamente da YouTube, esce una serie intitolata Cobra Kai. Cos'è il Cobra Kai? Cobra Kai era il dojo dei cattivissimi nel film Karate Kid. Il dojo dei bulli sconfitti da Daniel Sun e dal maestro Miyagi. Ricordo di essermi chiesto con stupore, ma come una serie sui cattivi di Karate Kid? E invece la serie Cobra Kai è un ribaltamento del punto di vista sui personaggi del film Karate Kid assolutamente geniale. Tutti abbiamo esultato quando Daniel LaRusso ha sconfitto Johnny Lawrence con il calcio volante della gru alla fine del film Karate Kid. Perché a quei tempi non ce ne fregava niente dei cattivi. Erano appunto stronzi e cattivi e dovevano morire. Punto e basta. La serie Cobra Kai invece ci mostra che cosa succede agli sconfitti. Anzi, quali eventi e cambiamenti provoca proprio quella sconfitta nel torneo alla fine del primo film di Karate Kid. Nella serie Cobra Kai infatti vediamo Daniel LaRusso, ormai un adulto, che proprio grazie alla vittoria in quel torneo oggi è un imprenditore di successo. Benestante, con una bella moglie, una bellissima casa, rispettato da tutta la comunità. Johnny Lawrence al contrario proprio per aver perso quel torneo è un fucking loser. Non ha un lavoro stabile, la moglie l'ha lasciato, il figlio lo odia, vive ai margini della società proprio perché ha perso. È letteralmente ossessionato dal successo di Daniel LaRusso, ma decide di redimersi riportando in vita proprio il dojo Cobra Kai, di cui faceva parte da ragazzo. Ma questa volta con una differenza sostanziale rispetto al passato. Non utilizzare più il Karate come arma d'attacco, come strumento per giustificare il bullismo, ma insegnare il Karate come difesa dal bullismo, come strumento per acquisire fiducia in se stessi. Ovviamente quando Daniel LaRusso viene a sapere che Johnny Lawrence ha rimesso in piedi il Cobra Kai, gli sale il sangue al cervello e cerca di boicottarlo in tutti i modi possibili. Perché LaRusso nel suo ruolo di vincitore, di custode del Karate duro e puro, cioè quello del Maestro Miyagi, dà per scontato che anche questo nuovo Cobra Kai sia una fucina di stronzi. E qui sta il ribaltamento geniale di questa serie. LaRusso diventa il bullo, cioè colui che usa la propria forza, in questo caso sociale, di ruolo nella società, per schiacciare Johnny Lawrence. È un punto di vista secondo me fantastico perché dimostra che vincere non sempre corrisponde a imparare o migliorare umanamente. La vittoria ha fatto perdere umiltà alla Russo, mentre la sconfitta l'ha fatta guadagnare a Johnny Lawrence. Ed ecco che il buono diventa cattivo e il cattivo diventa il personaggio per cui noi facciamo il tifo. Nel proseguo della serie Johnny e Daniel LaRusso troveranno un equilibrio di coesistenza, anche perché il personaggio di Daniel LaRusso è costantemente, in un certo senso, perseguitato dagli insegnamenti del Maestro Miyagi, che ancora oggi guida ogni sua decisione. E anche questo è un lato molto interessante della serie. Nel senso quanto una persona può essere influenzata dalla figura di un mentore, la cui figura però crescendo, diventando adulti, può essere trasformata, adattata alle nuove esigenze della nuova età, delle nuove responsabilità, delle nuove sfide. La Russo e Lawrence, tra l'altro, dovranno affrontare i veri cattivi del Cobra Kai, cioè John Kreese e Terry Silver, le cui backstory nella serie sono ben approfondite, incentrando la genesi della loro magna di controllo e l'apologia della violenza, nei traumi subiti durante la guerra in Corea. Oltre ai due veterani del primo film della saga, cioè Ralph Macho e William Zabka, la serie Cobra Kai è costellata di giovani attori che danno a tutta la produzione una freschezza che non vedevo da anni. Con questo non sto dicendo che siano dei bravi attori, anzi, la maggior parte sono dei cani. Però sono dei bravi cani, sono dei bravi cani ben utilizzati. Sono credibili e ognuno di loro incarna perfettamente il tema portante di tutta la serie, cioè il bullismo che sia provocato o che sia subito e soprattutto la grande domanda perché il bullo diventa bullo? Per reagire a cosa? Tecnicamente Cobra Kai è volutamente girata male, come si giravano i telefilm negli anni 80 senza troppi fronzoli, con questa fotografia sparata con colori accesissimi, scene di lotta volutamente esilaranti e una regia che più piatta non si può, ma tutto è esattamente come deve essere. La colonna sonora è da urlo, una playlist pop rock anni 80 che ti fa muovere costantemente la testa sperando di avere i capelli che non hai. Ma la cosa che ho apprezzato di più della serie Cobra Kai è che affonda il colpo quando c'è da affondare il colpo. Il karate non è solo uno sport, è un'arte marziale che in un modo o nell'altro ti insegna a fare del male a un'altra persona. Le tue mani, il tuo corpo diventano un'arma, per questo bisogna allenare prima la testa che muove quell'arma affinché non faccia del male a nessuno. E in Cobra Kai assistiamo spesso a questo tipo di percorso di crescita, ma attraverso la vemenza dei teenagers, cioè prima facciamo il danno, poi ne subiamo le conseguenze e alla fine impariamo la lezione. Non c'è niente di prevenuto, penso al braccio spezzato di Dimitri, o alla violenza con cui Tory bullizza Sam, la figlia di La Russo, o a quando Robby, il figlio di Johnny Lawrence, quasi uccide Miguel lanciandolo giù dalle scale della scuola, rischiando di paralizzarlo a vita. Paralisi che viene sventata durante un concerto dei Twisted Sisters, ma cosa volete di più da una serie? Ogni stagione omaggia i tre film originali della serie Karate Kid, con cameo molto ben dosati di tutti i personaggi principali. Fantastico il ritorno di Elizabeth Shue, che è stato il primo vero amore sia di Daniel La Russo che di Johnny Lawrence. Anzi, a Johnny Lawrence ancora gli brucia che Daniel gli ha portato via la fidanzata ai tempi del liceo. Come avrete intuito, sono un grande fan della serie Cobra Kai. Ora giunta su Netflix alla sua sesta stagione, che purtroppo hanno voluto spezzare in due, quindi dobbiamo aspettare novembre per il gran finale. Considero Cobra Kai l'operazione di recupero di un prodotto degli anni 80 meglio riuscita in assoluto. C'è grande fedeltà verso il materiale originale, ma soprattutto c'è grande rispetto nei confronti del materiale originale. Quello che a un occhio moderno, come a quello di mio figlio, può sembrare grossolano e anche un po' pacchiano, ai miei occhi che hanno vissuto direttamente quella magia al cinema, sono dichiarazioni d'amori verso il genere del cinema per ragazzi, che a me personalmente ha fatto sognare tantissimo e che purtroppo in quei termini e in quella forza narrativa non esiste più. Come dite, non potete guardare Cobra Kai perché non siete ancora abbonati a Netflix. Un minuto di tempo della vostra attenzione e risolviamo il problema. Quanto costano gli abbonamenti delle piattaforme streaming più famose? Netflix 12,99€ al mese, Disney Plus 8,99€, Spotify per la musica 10,99€ al mese, Paramount Plus 7,99€, Crunchyroll 4,99€ al mese. Essere abbonati a tutte queste piattaforme contemporaneamente vi costerebbe quasi 46€ al mese, sono più di 500€ l'anno. E se vi dicessi che è possibile abbonarsi a tutte queste piattaforme spendendo in totale meno di 15€ al mese? È possibile grazie a Gams Go, il servizio di sharing degli account condivisi. Abbonarsi è semplicissimo, andate sul link in descrizione, scegliete la piattaforma a cui iscrivervi e mi raccomando inserite il codice sconto BARLEY per ottenere un 5% di sconto in più sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto su tutte le altre piattaforme. Inizia a risparmiare con Gams Go, così avrai più soldi da spendere nelle tue birre preferite. Purtroppo devo dire che in Cobra Kai, soprattutto il personaggio di Johnny Lawrence beve delle birre di merda, beve queste Lager Light americane con poco alcol, in queste bottiglie di vetro beve direttamente la bottiglia, una roba da homeless. Però, 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 un abbinamento lo devo fare e ho deciso di abbinare a questa serie una birra estremamente tamarra, perché la tamarraggine, come noi la intendiamo negli anni Ottanta, è un distinto estremamente presente in questa serie. È una serie molto tamarra, che si merita una birra altrettanto tamarra. Sto parlando della In The Flash del birrificio anticorpo ed è una DDH IPA. cosa vuol dire DDH? Vuol dire Double Dry Oped, cioè il doppio del luppolo, ma anche il triplo, il quadro, poi volendo, di quello che chiedeva la ricetta originale. Etichetta poi tamarrissima. La birra nel bicchiere si presenta esattamente come si deve presentare, con un color oro accecante, una bella schiuma persistente. Wow, al naso l'uppolatura estremamente presente, ma meno rivolta verso l'agrume e più rivolta verso l'uva fragola. Spicca la frutta dolce, la frutta zuccherina. Molto interessante. Questa sensazione di frutta dolce torna anche in bocca, con un finale aspro e amaro, simile a quello del pompelmo. Ma comunque la caratteristica principale della bevuta è appunto l'uva fragola, anche la pesca volendo. Birra molto interessante, meno tamarra di quello che mi aspettavo, meno tamarra dell'etichetta sicuramente. Quindi Cobra Kai su Netflix serie per me è consigliatissima, abbinata alla In The Flash del birrificio anticorpo. Anche questa birra decisamente consigliata. Anche se non vi piacciono le birre troppo amare, questa è una IPA sicuramente di grande equilibrio. E dalla versione di Barley tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima. Grazie. 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 Grazie.